Signore e signori, prossima settimana arriva la patch 11.22 e ovviamente c'è la patch preview Questa patch va a includere soltanto le modifiche della prossima patch, non quelle che vedremo in futuro La pre-season ancora non sta arrivando, arriva il 17 novembre, c'è del tempo prima che arrivi tutta la roba della pre-season Giusto per rendere chiare le cose a tutti quanti e per essere sicuri che siamo tutti sulla stessa pagina Quindi, io direi di buttarci subito, immergerci in quella che è l'analisi dei cambiamenti e tutto E per contraccambiare potete semplicemente lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale Cominciamo? Partiamo dai buff ai campioni Allora, questo è un discorso che farò per questi tre campioni e che in generale va un po' anche a... Cioè, sarà spalmato su tutti e tre Perché questi campioni stanno ricevendo dei buff e anche molto grossi Proprio perché si trovano in una situazione orribile dettato dalla modifica della Gordrinker e del conquistatore nella scorsa patch Ora, molti dicono, ok, ci può stare che vengono buffati Perché? Perché sono campioni che hanno perso 5 e anche 6% di win rate soltanto per le modifiche Questo fa capire quanto fossero messi male questi campioni di base e quanto sbroccato fosse il Gordrinker se gli faceva fare così tanta differenza insieme al conquistatore Detto questo, detto questo Su Renekton partiamo semplice Renekton è diventato un campione meme in solo Q Letteralmente è inesistente Siamo al 44% di win rate Il che è imbarazzante per un campione che dovrebbe dominare la fase di corsia e poi dominare i fight Ed è comprensibile che tornino indietro, tornino sui loro passi per lo stornimento Perché si rendono conto Ok, nel prossimo due mesi non ci sarà nessuna competizione I mondiali sono solo a 11.19 e si arrangiano su quelli La prima competizione seria inizia a metà gennaio Abbiamo quindi 3 mesi per capire come cazzo rimodificare Renekton Ma partiamo con il Torniamo indietro sulla W perché abbiamo fatto una cazzata Che è un modo comprensibile di affrontare il problema Capisco perfettamente l'idea e l'intento Il punto è che Renekton è molto forte per il competito Ma in solo Q fa schifo E quindi baffarla adesso e dico Ok, ci prendiamo la comodità di avere 3 mesi per ribilanciarlo Poi speriamo lo facciano però Un mini rework forse sarebbe il caso Magari su qualche spell In modo da renderlo un pochino più interessante da giocarci contro E non super dominante e competitivo Per Riven e Kayn sono debuff diretti Su Riven sono danni base più alti sulla W E uno scaling con l'attacco fisico bonus Sottolineiamo perché la E scala con l'attacco fisico bonus Cioè quello che tu acquisisci da rune, da oggetti E non conta quello che tu hai di base che ottieni per livello Solo quello dagli oggetti e dalle rune Quindi il ratio passa da 100% a 120% Io non sono un grandissimo fan di questa modifica Mi spiego meglio Allora, se vai a fare i conti in totale Riven tra Conquistatore, Gordrinker La passiva della Gordrinker che ti dava l'attacco fisico bonus e tutto Riven ha perso un bel po' di statistiche Non riesce più a combattere E si vede perché ha perso il 5.2% di win rate Da una patch all'altra Già stava dominando per tutto l'anno E io posso anche capire Dico ok, comprendo perché l'abbiate fatto È assolutamente comprensibile Ma non ha alcun senso Serio non ha alcun cacchio di senso Andare a buffare così preventivamente Quando sai che c'è un buff della Gordrinker Nella stessa identica patch Cioè, aspetta di inserire quella modifica all'oggetto E poi buffa il campione due settimane dopo Ed è una cosa che comprende Cioè, comprendo Riot Dico, ok, puoi rendere un sacco di persone contente Perché? Perché possono giocare il loro campione preferito E Riven è tanto giocato ormai, eh Possono giocare il loro campione preferito E vive, vive, viva Bene Ci sono tantissimi campioni che vengono un sacco ignorati E non è un Eh, no, ma perché non risolvi quest'altro problema Quello è un altro problema Il punto è che fa ridere vedere come Riot ha preso del tempo Per andare subito a fare un campione messo in difficoltà Perché è popolare Ma nei momenti in cui ci sono campioni che sono meno popolari Quelli vengono lasciati nella polvere anche per mesi, se non anni Non sto scherzando Ci sono campioni che sono letteralmente lì da due anni Che non ricevono un bilanciamento Il che lo trovo un po' assurdo Perché ci sono fasi in cui certi campioni non esistono E Riven è letteralmente passata una settimana E sono già pronti a metterle un buff in testa Lo stesso discorso per Kane Perché anche lui ha perso in circa Tra il 4 e il 5% del suo win rate E quindi cosa fai? Aumenti lo scaling con l'attacco fisico E aumenti i valori di base delle spell Cioè è la stessa cosa di Riven Su due cose diverse Ma lo scopo è lo stesso È compensare quelle che sono state le perdite Dal conquistatore e dal gold drinker Direttamente rispettivamente Quindi mi chiedo Ma porca miseria Ma quando questo succede ad altre categorie di campioni Perché non rispondere con la stessa celerità? A me va bene rispondere con celerità alle cose Ma rispondete a tutte le cose Tutto in maniera uguale Con la stessa velocità Solo questo Cioè non è un cambiamento sbagliato Secondo me adesso Penso che comunque la maggior parte di questi cambiamenti Verrà un po' assorbito nel tempo E apprezzato Perché devi cambiare stile di gioco con Riven Non è più la stessa quantità di danni prima Non farai mai più la stessa quantità di danni prima Con la gold drinker Ma avrai un pochino più sustain Grazie alla scaling della E Avrai un pochino più sustain Con la modifica dell'omnivamp del gold drinker Che andiamo a vedere dopo E quindi sarà un po' diverso Ci vorrà almeno un mesetto Prima che la gente capisca E apprezzi a fondo Come effettivamente devi Come effettivamente devi fare Anche che in stesso discorso Il stesso concetto Non penso che cambierà di troppo Il modo in cui di cambiare Cioè è un campione veramente semplice Che in Quindi non cambierà di troppo Semplicemente sarà un pochino più facile Che ho portato prima Cioè la situazione attuale Il prima è la situazione attuale In cui fanno veramente cagare Questi due campioni Parliamoci chiaro Procediamo con altri buff Che dici Ok Kalista e Varus li comprendi Per quale motivo Vanno a potenziare la E di Kalista Che è lo squarcio Per chi non lo sapesse Per Varus invece è la pioggia di frecce Vanno ad aumentare quello che è lo scaling Con l'attacco fisico Assolutamente comprensibile E poi guardo a Kali e dico Ma che cazzo vi passa per il cervello Allora Non solo aumenti il valore flat Aumenti anche il valore Come scala con il potere magico Ma perché? Cioè Non che a Kali sia messa bene attualmente A Kali ha un win rate Astronomicamente Merdoso Per quello che è il suo status quo normale Cioè lei Di solito sempre sul 50% sta Adesso sta sul 47-46 In alcune patch Dipendentemente Da chi si trova di fronte Ma il punto è questo È che se tu vuoi Puntare ad avere a Kali Che fa Che sfrutta meglio la sua passiva E vuoi comunque lasciare il counterplay Io lo capisco l'idea Dici Ok mettiamo danno sulla passiva Perché se mettiamo danno o qualcos'altro Su tutte le altre spell La potenziamo E la rendiamo solo più frustrante Sulla passiva È un pochino meno frustrante Per quale motivo? Perché per applicare la passiva Devi autoattaccare E di conseguenza Appari Di colpo Sei nella cortina fumogena Tiri l'autoattacco della passiva O sei di fronte al tuo avversario Lì lo comprendo E dico Perfetto Ci sta Tanta roba È un modo intelligente Per andare a abbaffarla Ma potenzia ne uno dei due E se devi potenziarne uno dei due Non metterle anche valore flat di base Perché se no Le build più tankose Diventano un pochino più valide E visto che in precision Ci sono tanti oggetti Col potere magico E gli HP Questo un po' mi preoccupa Metti piuttosto solo lo scaling Sul potere magico Quello è comprensibile Dici Vabbè In early game Fa un po' di differenza Ti aiuta un minimo Ed è comprensibile Dico Ci sta Ha senso Mettere entrambi Un pochino overkill Non mi immagino Che salirà Weird astronomici Cioè Se consideriamo La prossima patch Che non ha nessun bilanciamento Per quanto riguarda gli oggetti Escolendo il Gore Drinker Mi aspetto Magari un 2-3% Da Cali 3% È bello ampio 3% è tipo Nella migliore delle ipotesi Mi aspetto 1-2% Più che 2-3% Per Calista e Varus Penso che il tempo letale Li aiuterà Tanto entrambi Penso davvero Che il nuovo tempo letale Li aiuterà È per questo Che sono un attimo Più cauti Per quanto siano Dei bei buff Sono un attimo Più cauti Per tipo Non vorremmo fare cazzate Quindi evitiamo Di tirare stronzate Raga Vediamo che succede Arriviamo ai nerf Dei campioni E ci sarà un sacco Di gente tiltata Che guarda Quelle modifiche Di Chiana HP di base Da 5-90 A 5-20 Gli HP per livello Che salgono Da 90-110 E se poi andate a vedere C'è proprio Tutta la lista Di modifiche Che modificano Totalmente Totalmente Proprio la funzionalità Di Chiana Cercano di ridurre Un po' del danno base Cercano di ridurre Alcuni degli scaling E che Che cosa dovrebbe essere Adesso Chiana Cioè Allora Hai messo danno base Più alto Nei livelli avanzati Della Q Ma uno scaling Di base più basso Sulla bonus AD Hai messo un danno base Più alto Sulla E Ma hai ridotto Lo scaling Della D Cioè Qual è l'idea Dovrebbe essere Un assassino Dovrebbe essere Un bruiser Cioè Agli HP di una merda 5-20 HP di base Sono veramente pochi Ok Li compensi Una volta che arrivi A livello 8 E anzi No neanche Oh mio dio Sono 20 in più Pensavo fossero solo 10 in più Perdonatemi Quindi li compensi A livello 5 Gli HP Fai veramente cagare In early game Che però Vabbè Basta giocare passivo Questi sono quei classici Cambiamenti Che non Non capisco La direzione Cioè Su tutti gli altri Riesco a comprendere Bene la direzione L'idea L'intento Che la Riot ha Quelli di Akali Quelli di Varus Eccetera eccetera Che abbiamo visto prima Ma qua è proprio Vuoi cambiare l'identità Del campione Mettendogli danni base Più alti Quando hai le spell Maxate Allo stesso tempo Gli riduci Gli riduci Scaling a D E gli metti più HP Per livello Cioè letteralmente Dal livello 5 in poi È un buff Netto di HP Cioè Kiana arriva ad avere Degli HP paragonabili A una front line Il che è abbastanza Ridicolo No serio Non ha senso No questo su Kiana Proprio non capisco La logica Cioè Ok Modificare Kiana Ha senso Perché è comunque Forte Così Cioè L'unica interpretazione Che riesco a dare È che vogliano Che sia un campione Che fa Danni base alti Quindi riesce a prendere Controllo in early game Poi in 18 fight Deve tirare più rotazioni Per poter uccidere Una persona Ma se hai danni base alti Lo uccidi ugualmente Quindi Ok Non lo so I danni base alti Però sfruttano meglio La letalità Quindi Ha una sua logica Non mi piace comunque Proprio per niente Graves invece È comprensibile Il danno della passiva Del pellet Che praticamente Va a fare Va da 30-20% Di danno in più Sul critico Cosa significa Graves Crit è in maniera particolare Il danno Praticamente lui tira più pellet E i pellet Fanno più danni Di conseguenza Spara in un colon Di fronte a sé Graves Il fatto che tu riduci Lo scaling Con il critico Vuol dire Spingerlo verso Build un pochino Più semplici Più dirette Su magari La letalità Oppure Per poter Permettere di Graves A critico Di esistere Senza rompere Il gioco Perché Graves A critico Una volta che arriva A tre oggetti Ha vinto Ha vinto Cioè Scatta in faccia Una persona Gli esplode La faccia E non ci può fare Proprio un cazzo L'avversario A questo modo Un minimo più affrontabile Lo diventa Non un grandissimo fan Di questa modifica Perché vuol dire Togliere un po' Di Cioè rendilo fragile Cazzo Non dovrebbe essere Una mega front line Graves Graves Attualmente Riesce a fare un po' Troppo bene il suo lavoro O potresti Mettere che Magari Non lo so La lifesteal funziona In maniera diversa Sulla sua passiva Non lo so La butto lì Perché quando Graves prende Il laning phase È tranquillo Grazie al piede lesto E poi in un team fight Gli smezzi la vita Tira un critico E si è rifullato Forse Forse Che poi Questa modifica Va anche a influenzare Quella roba Però Non lo so Non lo so Non è una brutta modifica È soltanto un Cioè Forse io Sono io che penso In maniera più chirurgica E loro pensano più Ad ampio spettro Qua riduci Il danno Il sustain Quanto possa curarsi In un fight Grazie al lifesteal Quindi è proprio È un colpo più grosso Quello che tirano loro Io vorrei essere Un po' più chirurgico Sulle modifiche Cioè tipo Ok Magari non hai abbastanza Sustain Per sopravvivere facilmente Ma Ma Però tiri dei danni fotonici Cioè Accentuare una cosa E indebolire E accentuare una debolezza Accentuare una forza E accentuare una debolezza Rendere chiaro Cosa deve essere forte E cosa deve essere debole Nella mia testa Quello che dovrebbe essere Per loro è più un Ok Nerfiamola tutto tondo Che è comprensibile Graves è veramente forte Cioè non è una scelta sbagliata Differenza di opinioni Kha'Zix Dopo un'intera season A essere uno dei jungler Più giocati in assoluto Anche se non dovrebbe Assolutamente esserlo Perché è uno dei peggiori Cioè Lo so che suona assurdo Quello che sto per dire Kha'Zix È un jungler Fatto apposta Per punire gli stupidi E non sto neanche scherzando Ha un clear di giungla Che è mediocre Ha un ganking potential Che è veramente mediocre Eppure la gente continua A creparci contro Ma non i laner Spesso e volentieri Sono gli altri jungler A morirci contro Perché prende Kha'Zix Invade Se da solo Sei fottuto Nel 90% dei casi Cosa fanno? Vanno a ridurre il danno Lo scaling Della Q di Kha'Zix Non solo Ma anche lo scaling Della Q di Kha'Zix Quando sei isolato Che uno dice È una buona idea È un buon modo Per indebolirlo Ma Kha'Zix Esiste soltanto In solo Q È quello il problema Kha'Zix Non esiste Alla di fuori Della solo Q Cioè È proprio Una blatta aliena Che non Non viene nemmeno Considerata Cioè È un meme epic Proprio perché Non è debole di per sé Ma punisce semplicemente Le persone scarse Fine Punisce le persone Che non sono preparate A giocare contro Kha'Zix E non voglio essere crudele È che È un nerf giusto Per la solo Q Allo stesso tempo È un bene L'hai totalmente ucciso Per ogni altra situazione Cioè La solo Q Ad alto elo Già lo considerava un meme In competitivo Già lo considerava Era un ultra meme Kha'Zix Cioè Se piccavi Kha'Zix Trollavi 99% di Kha'Zix In competitivo In solo Q È un campione Che punisce la tua ignoranza Fine Quindi Indebolirlo È comprensibile Per andare a regalare varietà Allo stesso tempo Dagli qualcosa Che lo renda competitivo Però penso Ok Non lo fanno Per quale motivo Perché non vogliono Andare a modificarlo Troppo Visto che c'è Una preseason Che sta per arrivare Comprensibile Risolvi un problema Velocemente E sono semplicemente Io che sono un burbero Di merda Che continuo a pensare A queste cose Nonostante Non siamo in periodo Di competitivo Ora Io sono molto contento Dell'indebolimento Generale di Yumi Del fatto che Ok Vai a ridurre Quanto va a curare Di base E quanto scala Col potere magico Woo Oh mio dio Queste Sono questi i problemi Giusto? No Secondo me Non sono questi i problemi Fatto che sia interattivo Come zero cose Al mondo Cioè Non puoi combattere Contro Yumi Puoi combattere Contro il tizio Che si porta Presso Yumi E Yumi Lo tiene in vita Come fosse un cazzo Di zombie Quello è il problema Ok Riducendo quello che è Lo scaling Con il potere magico Riducendo Della E E della cura Comunque la cura È più debole A tutto tondo Non puoi kaitare Come prima Non puoi inseguire Come prima Non cura Come prima E quindi Ci siamo È un buon modo Per attaccare Quello che È uno dei suoi punti di forza Ma Yumi Mica funziona Soltanto per quello Yumi Non è un problema Soltanto perché cura E perché Può dare velocità In movimento Yumi è un problema Perché per quanto tu Abbiamo una spell Che consumi il 12.5% Del mana Che è la sua E La sua cura Costa mana percentuale Unica spell nel gioco Che lo fa Costa il 12% Del mana La sua E E gli dai un modo gratis Per averla Con la passiva Yumi dice Eh vabbè Ma Lapo Ma ti sleghi E quindi In conseguenza Corri dei rischi Perché ti stai esponendo Per tirare un autotacco Quel che so io E poi penso E torni dentro subito Cioè Ci fosse un periodo In cui vieni punito Per davvero Sarebbe credibile Come risposta Dici Ok C'è un periodo Durante la quale In cui Yumi Non riesce a legarsi Dopo che si è slegata A qualcuno E allora dici Ok Si slega Rigenera mana E poi deve aspettare Qualche secondo Prima di potersi rilegare Ma porca miseria Il periodo è troppo Cioè Il periodo di punizione Per Yumi È troppo piccolo E uno dice Eh vabbè Ma se no Non funzionerebbe Lapo Eh ho capito Ma se funziona Sempre Forse non è proprio Il massimo E uno può dire Ma Lapo è soltata Soltanto la passiva E la cura Che sono state baffate Di recente Che l'hanno aiutata Assolutamente Nessuno nega Il fatto che si è stata aiutata E non poco Yumi di recente Allo stesso tempo Mi viene da dire Se un pattern È frustrante Non puoi lasciare Il pattern frustrante Semplicemente Indebolire i numeri E basta Perché non è divertente Giocarci contro Fine A prescindere dai se Dai ma Cioè Il pattern frustrante È la prima cosa Che va affrontata Che uno può trovarsi Infastidito da centomila cose Quindi la gente potrebbe dire Eh vabbè Ma per me non è frustrante Per loro è divertente Non so chi Però vabbè Non giudico Il punto è questo È che Nel momento in cui Tu continui a lasciare Questo genere di cose Così Lasciato fare Purtroppo Non riesco a trovarmi Non riesco a trovarmi d'accordo Non riesco ad accettarla Come roba Perché è un È proprio un Risolvere in maniera pigra Un problema Come quello di Maokai Cioè Io guardo sotto Maokai E dico Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Cioè Mi vuoi dire che È un nerf a Maokai support La riduzione della cura passiva Che scala con sugli HP E quindi Letteralmente È un attacco diretto A quello che è Maokai tank in top lane E mi riduci anche di 10 Il danno alla W Che dico Ok Il danno alla W È assolutamente Comprensibile Che me lo vai a ridurre Per quale motivo Perché Maokai Di W Fa più danno Perché sono danni base Alti Per Maokai Su campioni fragili Quindi in bo Le funziona meglio Perfetto Magnifico Sai cosa potresti fare Di conseguenza Potresti rimettere Che la W È la fonte di danno percentuale Così che funziona bene Soltanto contro campioni Con tanti HP E non con quelli che hanno Pochi HP E metti Che la E Ha un valore flat Di merda E serve Principalmente Per dare un rallentamento Più che per fare danno Perché La E di Maokai E la W di Maokai Sono state invertite Non so quanto tempo fa A livello di danno Ed è ridicolo Perché Maokai Dovrebbe essere una front line A ingaggio E non lo è E la gente pensa Eh vabbè Ma la può magari Più persone vogliono giocare Maokai support E lo capisco perfettamente Ma non mi mettere La porzione di danno Che servirebbe Per ingaggio Servirebbe Apposta Per andare ad affrontare Campioni Coriacei Sull'unica spell Che non andrò mai a colpire Perché chi cazzo Entra nei bush Chi ci entra nei bush In tranquillità Quando è contro Maokai Spoiler Nessuno Le front line Le evitano come la peste Nel momento in cui Si si trovano di fronte a un sapling Cioè giochi di conseguenza Ed è estremamente facile Giocare di conseguenza E se quello Non è più la tua fonte Di danno principale Perché l'hai continuata A nerfare nel tempo La E E hai messo danno Sulla W Per calibrare È ovvio che poi Funzioni meglio Contro i campioni fragili Come risolvi questo problema Metti che la E Ha un danno base Medio Medio Tenente all'alto Ma Ma La W Semplicemente Il suo lockdown Dura di meno Con i livelli più bassi A questo modo Sei puntato a prendere La Q Che è la sua legnata O la W Se sei in top lane E almeno funziona Per la top lane Mentre come supporto O prendi la E Oppure non fai danno Oppure è soltanto Il tempo di lockdown E fai danno percentuale Che ti può tornare utile Fino a un certo punto Perché Una cosa è La W Che fa danno percentuale Ed è una porzione Della vita massima Ma se la porzione Della vita massima È così bassa Perché sei un campione Supporto Non è che ci puoi far molto Non ti faranno Granché di danni Certo Forte comunque Ma non quanto Contro una front line E quindi siamo lì Al discorso che guardiamo E diciamo Vabbè raga Maokai support Viene nerfato Perché Perché in altre regioni Si funziona bene È vero È assolutamente vero In altre regioni Funziona molto bene Maokai support Anche nella nostra Non è messo per niente male È stato che Da quanto tempo Non si vede un maokai Cioè Noi per esperienza personale La viviamo come esperienza personale Ed è normale Che ci troviamo frustrati Perché siamo tipo What the fuck Riot Ci saranno persone Dall'altro lato del mondo In Corea E dicono Dio grazie Finalmente Mi hai fatto Sto pezzo di merda Di maokai Porca droga Io me lo trovo Sempre come supporto Cioè Sono convinto Sono veramente convinto Che da qualche parte In qualche regione Effettivamente Maokai support Sia forte Però allo stesso tempo Cioè Se me gli dici Che in Corea È forte E qua in Europa No Forse mi verrebbe da dire Ai coreani Di guardarci Più più spesso Gli streaming Di fieric Perché Mi viene da ridere A pensare Che non se ne siano accorti Fino ad adesso Non lo so Cioè Sto sparando Sto sparando Adesso cazzate Più generiche Perché un po' Mi fa ridere Vedere un nerf A maokai support È proprio un Raga Ma Gli altri problemi Li vogliamo ignorare Tipo il fatto che Akshan Il suo win rate Non è praticamente sceso Con 20 danni in meno Sulla sua E Raga Raga E vabbè E questa è l'ultima modifica E ci siamo arrivati Dicendo Ok Baffa la Gordrinker Eravamo tutti preoccupati Perché diciamo Che cazzo ragazzi L'avete appena Fata L'aumento da 8 a 10% Di Omniwamp Non è male È buono E anche 50 HP Più Cioè Va molto verso la direzione Di quei campioni Che vogliono HP E sustain Piuttosto che avere Danno fisico Sono Non lo so Sono qua che guardo E mi viene a pensare Risolve il problema No Non è che non risolvi I problemi dei campioni Che vorrebbero prendere Questo oggetto È che i campioni Che prendono questo oggetto Era un effetto collaterale Avere tanti HP E tanto Tanto sustain Prima era dalla del Tregen Adesso dall'Omnivamp Penso che Non è che saranno tristi Di questa modifica Quei campioni che vorrebbero Un buff La Gordrinker Per come era prima Ma penso Ok È meglio di prima Non diventa più Un meme Bye Ci sta Circa Hanno tenuto Per così tanto tempo Il conquistatore Il Gordrinker Così forti Che ormai Siamo disabituati A pensare A come esiste Un mondo Senza questi oggetti E di conseguenza Vedere un buff Di questo tipo E dico Ok Lo state aiutando Questo oggetto Ma non riporterà La situazione A quella di prima Non che si voglia riportare La situazione A quella di prima Ma non andrà a compensare Per il fatto che Per un'intera stagione Il Gordrinker È stato rotto Rotto letteralmente E che tutti i campioni Sono stati bilanciati Attorno a quello Per un'intera season E quindi Per il 2022 Io mi aspetto solo una cosa Che tutti i campioni Basati sulla Gordrinker Continueranno ad essere modificati Perché saranno comunque deboli Nonostante questo aiuto È un aiuto Grazie Riot Ma Raga Per un intero anno Per un intero anno Per un intero anno Siamo stati lasciati così È ovvio È naturale Che non funzioni È ovvio Che non funzioni Più nessuno di quei campioni Che usava questo oggetto Perché era inevitabile Questo però farà capire Anche quanti campioni Erano fuori scala Perché se funzionano Anche senza il Gordrinker Vuol dire che erano forti A prescindere dal Gordrinker Il Gordrinker Semplicemente li eleggeva Essere delle divinità E quelli che sono invece Scesi tantissimo Come Fiora E Riven Si trovano ora In una situazione Che senza un oggetto Troppo forte Non funzionano Non come prima Riven è già stata aiutata Ma Fiore e Atrox Dove stanno Poverini A prendere polvere Il Gordrinker E지는za Dun Il di De De Il Espere L Il Grazie a tutti